Venerdì 25 novembre e sabato 26 novembre ospiterà il Teatro del 99 il primo degli appuntamenti con i docenti della Bernstein School Musical Theater di Bologna con cui abbiamo stretto un accordo di collaborazione che speriamo dia buoni frutti nel corso degli anni a vantaggio di tutti i bambini e ragazzi ma anche adulti amatori che vogliono approcciare a questa disciplina del Musical Theater. Ospiteremo con grande piacere Alessandro Di Giulio che è docente di teatro e coordinatore dei corsi OFF della Bernstein School che lavorerà con tutti i ragazzi e i bambini che sono attualmente iscritti ai nostri corsi di Musical Theater. Questo è veramente una grande opportunità per tutti perché insomma il mondo del Musical Theater è sicuramente un mondo molto affascinante ma anche molto complesso e complicato. La figura del performer è quella che sa ben muoversi e destreggiarsi all'interno della danza, del canto e della recitazione per questo è una figura estremamente complessa e articolata. I nostri iscritti sono veramente tanti, il progetto è partito molto molto bene dopo la conferenza stampa. Ringrazio la città dell'Aquila, il comune che ha sostenuto lo start di questa iniziativa ma anche tutti gli altri partner. Mi fa piacere ricordare il Conservatorio dell'Aquila Alfredo Casella, la English School of L'Aquila perché veramente sono dei partner preziosissimi e fondamentali per la buona riuscita di questo progetto. Se qualcuno volesse iscriversi last minute è ancora possibile o sono chiuse le iscrizioni? Noi le iscrizioni diciamo che abbiamo deciso per questo primo anno almeno di lasciarle aperte tutto l'anno perché proprio stiamo facendo una diffusione capillare dell'informazione.